Quando vivere significa gioia, parlo di quella gioia incontenibile che squizza da tutti i pori, la simpatia non può certo non care a questo grande passinaccio, protagonista sicuramente dei campionati padovani che si tranno il 21 di maggio. Sto parlando di questa grande realtà, tutto sommato di questa grande simpatia che è ZALE! Grazie a tutti! 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 Grazie